Scusate, siamo a 31 minuti di oggi e faremo una spiegazione di quando oltre stinto o di non ti vedi? È una spiegazione di super, mi piace. Perché non guardi la fotocamera? Sto guardando. Sto pensando, ma quando oltre stinto potrebbe essere realtà o finzione? Per me può essere realtà, l'ha raggiunto dopo. Ho fatto anche una spiegazione da Ultra Instinct. Ora tocca a Conner. Conner potrebbe essere raggiunto. Mi piace. Tipi, fangol! Comunque è la cosa che vorrei esaltare in questo video. Luca Marulli, Simeone, Francesco Marank e Andrea Pacet. Conner ha raggiunto il potentale sbloccato e vediamo se ha raggiunto qualche altra trasformazione. E quindi ragazzi, ci vediamo a smogli. Ciao!